Sono Amalia Martelli, Dipartimento Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica dell'Enea. Il mio compito oggi è parlarvi del cosiddetto bonus facciate, l'incentivo che è stato introdotto con la legge di bilancio 2020 e se ne può usufruire per spese sostenute nell'anno 2020. Il periodo della detrazione, come per gli incentivi eco bonus, è pari a 10 anni. Interessa gli edifici ubicati in zona territoriale omogenea A o B secondo il Decreto Ministeriale 1444 del 1968 o in zone assimilabili in base ai regolamenti comunali o regionali. La finalità della norma è incentivare gli interventi per il decoro urbano delle nostre città. Di conseguenza interessa le facciate esterne degli edifici e agevola gli interventi sulle strutture opache di essi. Solo a titolo esemplificativo, gli interventi agevolati possono riguardare la pulitura o la tinteggiatura delle facciate esterne, il rifacimento o il recupero di balconi, ornamenti e offreggi, ma anche interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e quindi interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano l'intonaco per una quota superiore al 10% della superficie disperdente l'urda complessiva degli edifici medesimi. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito www.detrazionifiscali.enea.it www.detrazionifiscali.com 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 www.detrazionifiscali.com